Il museo dei tanks a Dorset in Inghilterra si è privato a malincuore di un panther tedesco catturato in Africa durante la seconda guerra mondiale dall'ottava armata di Montgomery. Era il carro 419 sul quale viaggiò il maresciallo Rommel da Agedabia alle porte di Alessandria. In ricordo dell'Africa corpse e della volpe del deserto, così gli inglesi chiamavano Rommel, il cimeglio storico è stato restituito ai tedeschi. Verrà trasportato in Germania a cura della marina di Bonn. Quando Rommel cominciò la sua danza infernale sulle sabbie africane, i soldati inglesi e tedeschi d'oggi erano bimbi. Vinti e vincitori di ieri sono divenuti amici.